Le forze partigiane quanto avrebbero potuto resistere senza l'intervento degli alleati? Pochissimo, pochissimo. Non avevano i mezzi strategici per combattere contro un esercito come quello tedesco, sicuramente. Senza negare alcun eroismo partigiano sarebbero durati ben poco sotto l'efficienza militare? Non c'è dubbio, senza gli alleati non potevano fare nulla. Io ho parlato con i comandanti alleati, che ancora c'erano, e hanno avuto un aiuto sulla linea gotica, nell'Appennino e anche in Lombardia. hanno avuto un forte aiuto dei partigiani, quindi i partigiani hanno determinato l'equilibrio, diciamo così. Per esempio Genova è stata liberata dai partigiani, non dagli alleati, cioè i tedeschi, 30.000 tedeschi si sono arresi ai partigiani. e c'è il filmato dove si vede questi 30.000 tedeschi con tutti i carri armati che sfilano arresi ai partigiani. Però come tutte le cose c'erano i buoni e i cattivi.